A Sport on Air, sul canale di Radio Montorfano e Spot e Sport, il piacere di avere come ospite Chiara Passeri. Ciao Chiara, benvenuta. Ciao, buonasera a tutti. Senti un ritorno a Radio Montorfano, per parlare di badminton, ma per parlare stasera di Chiara Passeri, degli ottimi risultati ottenuti e di una ciliegina sulla torta, ma quello lo racconteremo poi. Allora intanto ai nostri amici raccontiamo chi è Chiara Passeri. Giocatrice di badminton, tra le migliori giocatrici azzurre in Italia, per scelta propria, non gareggia per la nazionale, ma è una giocatrice del GSA Chiari Badminton. Come sei arrivata al badminton Chiara? Allora, io ho conosciuto questo sport quando ero molto piccola, ero in quarto o quinta elementare, ha iniziato a giocarlo a mio padre perché un suo collega gliel'ha proposto e poi l'ho iniziato per scherzo. All'inizio non ero convinta, facevo altri sport, facevo ginnastica, pallavolo, poi l'ho provato un po' su insistenza, con un classico frase del genitore, dai prova uno sport diverso e basta. E da lì è scattata la scintilla. E da lì però il percorso è stato velocissimo per arrivare alla nazionale. Sì, è stato abbastanza rapido considerando che comunque ero piccola, non giocavo da tanto e già da subito ho iniziato ad avere risultati buoni e pian piano sempre migliori fino ad arrivare in nazionale. Senti, il badminton è uno sport che fino a qualche tempo fa poco conosciuto, poi un avvento incredibile nelle scuole e poi mano a mano la nascita di parecchie società ed ora si è arrivati a un campionato di Serie A che voi, del GSA Chiari Badminton, al quale voi partecipate con ottimi risultati. Tra l'altro, peccato l'anno scorso quel punto che non vi ha concesso di andare a giocarvi i play-off scudetto, ma tra poco si riparte. Sì, ripartiamo col campionato verso gennaio, circa metà gennaio. Prima tappa a Marles. Sì, quindi vedremo come va quest'anno. Senti, con che aspirazioni giochi quest'anno il campionato in Italia? Poi spiegheremo il perché ti faccio questa domanda parlando di in Italia. Allora, ovviamente l'aspirazione è sempre quella di arrivare almeno tra le prime quattro squadre. Arrivare prima o secondi in Italia è molto difficile perché poi ci sono squadre che acquistano anche giocatori dall'estero abbastanza forti, che hanno proprio giocatori strutturate, eccetera. e quindi è molto difficile arrivare tra le prime due, però almeno tra le prime quattro si potrebbe fare. Ci si fa un pensiero. Perché? E dicevo in Italia, perché amici di Radio Montorfone e Spot e Sport, dovete sapere che Chiara non gioca solo il campionato italiano. No, gioco anche altri due campionati, uno in Danimarca che è già iniziato a settembre e uno in Spagna che invece inizia più o meno come quello italiano qui nel gennaio. Senti, in Danimarca come vanno le cose? Eh, diciamo che per quanto riguarda lo sport e il badminton in particolare è tutt'altro mondo. Lì è molto più strutturato, anche le scuole danno molta più importanza allo sport e i risultati poi si vedono. E voi come avete iniziato il campionato? E l'Andanimarca? L'altro con la tua squadra, sì? Allora, non sono molto aggiornata perché poi hanno moltissime giornate, sì, sì, sì. Però non siamo messi male. Ci si aspira? Sì, sì, potrebbe... L'aspirazione della squadra è quella di riuscire a fare il salto di categoria, quindi dalla terza divisione passare alla seconda. Perché no? Come sei arrivata a giocare in Danimarca? È una domanda così. Praticamente l'attuale allenatore di quella squadra danese era il mio vecchio allenatore nazionale. E quindi si è trasferito in Danimarca e poi mi ha chiesto se ho voglia di giocare. E con la Spagna invece che campionato fai? Con la Spagna è un campionato di... si chiama division... primera divisione de oro, che è praticamente la nostra serie B. E quindi anche lì si punta al salto? Non credo, non è proprio l'obiettivo della mia squadra perché poi richiede anche molti fondi, molti sponsor passare in serie A e la mia squadra lo fa più che altro per divertirsi. E tu ti diverti? Sì. Vero? Sì. Senti, un'altra cosa, sei tra le migliori giocatrici in circolazione in Italia e poi insieme alla tua compagna di doppio femminile formate una coppia tra le prime tre, due? Dipende un po' da chi gioca, si potrebbe fare, sì. Potreste essere la numero uno tu e Martina Moretti, no? Sì, nel tabellone potremmo essere, data la classifica, sì, la numero uno, poi si vedrà. Beh, dobbiamo aspettare poi due settimane perché a fine novembre a Milano i campionati italiani assoluti. Lì tu giocherai singolo, doppio femminile e doppio misto. Il doppio misto con chi lo gioco? Lo gioco con David Salut. È un'altra coppia, incredibile allora. Che abbastanza si spera, quest'anno potrebbe essere una buona occasione. Chiara, noi allora ti aspettiamo e quando finisci. Però adesso andiamo al punto di cui dicevo prima, questa ciliegina sulla torta. Perché? Chiara pochi giorni fa si è laureata, una laurea in economia e commercio, con una tesi incredibile. In economia e commercio, però, la tesi è basata sul? La tesi è stata come materia base, è statistica. Il mio professore mi ha concesso l'opportunità di realizzare una tesi statistica sul badminton. E quindi tu hai studiato, nella tua tesi, i primi quattro colpi di una partita? Di una partita in doppio maschile. In doppio maschile. E lì le statistiche è su quanto dura lo scambio? Le statistiche sono più che altro centrate sulle abitudini dei giocatori nei primi quattro colpi, che sono quelli un po' più statisticamente studiabili. Quindi le pari abitudini, ad esempio, dove indirizzano maggiormente il servizio, se è conveniente realizzare un tipo di servizio piuttosto che un altro. E poi lo stesso anche per tutti gli altri colpi. Beh, è stata presa bene come tesi, no? Sì. Una valutazione, direi, tutto sommato gradevole. Abbastanza. 110 elode. Quindi direi che è stata presa benissimo, non bene, no? Complimenti. Grazie. Davvero di cuore. Senti, adesso, Chiara, cosa ti aspetta? Adesso ho già iniziato la magistrale e quindi continuerò a studiare per altri due anni, spero. Al termine di questi due anni un'altra tesi ancora basata sullo sport? Non lo so, non lo so ancora. Anche perché è stata abbastanza dura, lunga più che altro, per quanto riguarda proprio la raccolta dei dati. Quindi non lo so. Vorrei magari provare a farne anche una più incentrata sulle materie che effettivamente sto studiando. Senti, qual è il tuo sogno? Non saprei. Vai a dormire stasera e cosa sogni di Chiara Passere? In realtà non saprei. Peno male la maggior parte dei miei sogni sono abbastanza realizzati per ora, quindi solo godermi quello che mi succede. È quello che noi ti auguriamo, sai? Godersi, divertirti. Divertirmi. Fare quello che ti piace, ottenere ottimi risultati nella vita, nello studio e nello sport. È l'augurio che noi ti facciamo. Grazie. Grazie a Chiara Passeri, ti aspettiamo dopo gli italiani assoluti. Lanciamo l'invito anche a Martina Moretti così tutte e due ti racconterete com'è andata. Ok, volentieri. Grazie a Chiara Passeri, a prestissimo. Grazie a voi.